Scrinier Inter. I segnali dello Slovacco sono chiarissimi. E da Parigi arriva un assist gigante. Non abbiamo bisogno di nessuno. A gennaio non faremo mercato in entrata. Ha detto ieri Alcalifei. Patron del PSG. Un assist gigante per l'Inter in chiave Milan Scrinier. Secondo il Corriere dello Sport. Ma il vero pericolo continua ad essere quello di perdere il difensore slovacco a zero. Visto che il suo attuale contratto è in scadenza al termine della stagione. Le manovre per rinnovarlo sono scattate da tempo. In via le liberazione, peraltro, continua a prevalere l'ottimismo. I segnali che ha lanciato e che continua a lanciare Scrinier, infatti, vanno sempre nella stessa direzione. Vale a dire che non solo ha dato la disponibilità a proseguire la sua avventura in azzurro. Ma ha pure aggiunto la sua preferenza a restare a Milano. Piuttosto che a trasferirsi a Parigi sottolinea il Cor Sport. Anche quello dello slovacco è un messaggio indiretto. Guardate che il mio desiderio è quello di rimanere. Ma dovete venirmi incontro perché l'offerta del PSG è ricca. La dirigenza dell'Inter è al lavoro per colmare il gap economico e ora serve un nuovo incontro faccia a faccia. Con un'accelerata prevista in queste settimane. L'idea di viale liberazione, infatti, sarebbe quella di chiudere la partita entro la fine dell'anno. Tuttavia, occorre compiere uno sforzo. Se non altro sul piano della fantasia. Allo scopo di individuare una formula che permetta di avvicinare le richieste dello slovacco. Chiacchierata a Malta con ausilio?